buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di wall street italia oggi siamo in compagnia di carlo benetti market specialist di gamitalia sgr benvenuto carlo ben ritrovato luca e grazie dell'invito grazie a te per aver accolto il nostro invito e appunto volevamo chiederti un parere di scenario un'analisi a quello che è il contesto attuale macroeconomico sembra quasi che si vada verso una fine della globalizzazione perché prima la pandemia poi adesso il conflitto in ucraina hanno creato un contesto macroeconomico diviso a blocchi quasi qual è la vostra view al riguardo di questo contesto è una bella domanda c'è questo rischio già con la pandemia avevamo avvertito la tentazione o la tensione delle società a riaccorciare le catene del valore a portare ad avere maggiore controllo sugli approvvigionamenti più sicurezza la guerra poi ha fatto precipitare la guerra distrugge vite distrugge esistenze cambia le prospettive ecco dal punto di vista economico fa precipitare questo rischio di una divisione del mondo in aree di influenza e quando la diffidenza fa premio sulla fiducia beh allora si tende a riportarci a riportarci in casa a riportare in casa le produzioni le le gli approvvigionamenti accorciando le catene del valore perché il grande il modello toyota esteso all'intero pianeta quindi un magazzino molto basso perché il magazzino è un costo e l'economia just in time come si dice beh prevede non solo una logistica precisissima una assistenza della tecnologia digitale ma prevede soprattutto come precondizione la cooperazione tra paesi la divisa la diffidenza la divisione del mondo in blocchi ecco che porta la diffidenza che porta questa fiducia questa cooperazione a venire meno aumentano le sicurezze aumentano il controllo ma aumentano anche i costi e allora l'inflazione che poteva essere un fenomeno scaturito da due anni eccezionali un 2020 con un crollo sincronizzato delle economie di tutte le economie del mondo come non vedevamo non abbiamo mai visto in tempo di pace e un 2021 che ha invece assistito a una ripresa straordinaria di quelle economie l'italia che cresca al 6.6 per cento tassi cinesi è evidente una una risposta eccezionale a un momento eccezionale ecco l'inflazione che era un po figlia di questa situazione eccezionale rischia con questa accorciamento delle catene dell'approvvigionamento rischia di diventare una presenza costante la deglobalizzazione come dicevi tu si accompagna proprio a questa fase un aumento dei costi lo abbiamo visto nell'ottocento l'ottocento è stato un secolo di scoperte scientifiche che di introduzione delle di novità tecnologiche nelle nei processi produttivi bassi prezzi bassa inflazione poi la guerra mondiale nel 14 ha fatto saltare quel modello siamo entrati nella fase della deglobalizzazione degli alti costi dell'alta inflazione ecco dopo 40 anni di globalizzazione il pendolo della storia rischia di oscillare dall'altra parte però questo è una prospettiva non è scritto nella pietra dipende dalle scelte della politica e quindi è tutto un divenire non direi non lo metterei come come un dato un dato certo è un rischio fortissimo ecco appunto questo rischio come dicevi comporta delle conseguenze in questo momento vediamo l'inflazione vediamo anche dei mercati finanziari che sono molto volatili e con un forte una forte incidenza del dell'incertezza su quelli che saranno gli sviluppi nei prossimi mesi secondo la vostra opinione quali sono gli strumenti di investimento più utili per proteggere il capitale in questa fase naturalmente prima che investitori siamo cittadini di questo mondo quindi ci auguriamo che il rischio politico arretri e cioè che ci sia al più presto la pace guardando lo scenario dal punto di vista come se fossimo dei dottor spock come il venusiano privo di emozioni star trek se dovessimo guardare solo al lato finanziario degli investimenti ecco la grande incognita resta l'inflazione siamo in un contesto inflazionistico e allora i portafogli vanno attrezzati per questo tipo di nuova situazione appunto abbiamo per 40 anni non abbiamo visto è un fenomeno che non abbiamo conosciuto tu sei giovane io ho colleghi giovani che non conoscono non hanno esperienza di cosa significhi convivere con l'inflazione ecco con l'inflazione i bond e le obbligazioni e la liquidità sono esposte all'azione corrosiva dell'aumento dei prezzi perché erode il valore delle cedole e del capitale in rimborso l'oro è imprevedibile non è un buon edging all'inflazione non è un buon protezione all'inflazione l'oro serve più per il rischio politico lo abbiamo visto anche nelle scorse settimane ma per l'inflazione ha dei comportamenti contraddittori e lo stesso i tips i cioè quelli obbligazioni il cui tasso la cui cedola è collegata all'aumento del costo della vita in questo momento sono estremamente cari e allora ecco che nel medio termine il valore reale del portafoglio viene garantito viene garantito una parola che non possiamo usare nel nostro mestiere ma diciamo che viene promesso più dalle azioni nel medio termine soprattutto quelle società quei settori che hanno la capacità di traslare l'aumento dei costi sui prezzi finali i prezzi al consumatore senza paura di diminuire il fatturato di diminuire le vendite penso alla tecnologia siamo piuttosto inelastici al prezzo quando si tratta di comprare nuovi nuovi giocattoli elettronici oppure le aziende che hanno la necessità di stare costantemente nella frontiera della della conoscenza nella frontiera dell'innovazione oppure i beni di consumo e soprattutto i beni di consumo di alta gamma perché appunto anche lì l'acquisto del bene di lusso non risponde a una necessità ma ad altre risponde ad altre aspirazioni il prezzo non è quasi mai un discrimine per cui le case del lusso possono aggiustare i listini senza paura di compromettere le vendite ecco quindi metterei questi paletti l'oro imprevedibile tips cari le obbligazioni esposte all'azione corrosiva come la criptonite sono l'inflazione come la criptonite per superman le azioni invece hanno dimostrato nella storia non lo dico io lo dicono le evidenze storiche una maggiore protezione del valore reale dell'investimento beh carlo io ti ringrazio perché c'è il fornito degli spunti assolutamente interessanti e penso che appunto quello più importante per gli investitori di guardare alle azioni in questa fase e mi accodo anche al tuo la tua speranza di che tutto si risolva al meglio prima come cittadini che investitori teniamo accesa la fiammella della speranza davvero grazie grazie della della tua ospitalità luca è sempre un piacere grazie a te e ringrazio anche tutti gli spettatori per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime trasmissioni alle prossime analisi sui nostri canali digitali grazie a tutti